Basta individualismo, il rap dovrebbe essere riscatto collettivo. Ogni volta che ho parlato di Noki, ma ogni volta che l'ho citato, ho fatto questa citazione che lui ancora doveva fare, ma perché già l'aveva fatta in passato. E quindi, ecco, è questo il mood di Noki. Ovviamente esce fuori con Medio Ego, che è proprio un disco che è emblema di questo concetto, uno esce fuori, uscirà fuori con questo titolo che fa capire che lui, insomma, andrà a lavorare in quel senso da un punto di vista lirico e concettuale. Quindi, un disco con molte aspettative, moltissime. Tra l'altro, io vi consiglio di andare su YouTube a recuperare le live che fa Noki Ness, col suo format Ness Television, dopo Radio Dissing. Inoki Ness sta dando spettacolo, spettacolo puro. Io adoro questo fottuto rapper, old school, doppia H, perché Inoki è hip-hop dal 1900, boh, e via dicendo. Inoki, che tra l'altro io conosco bene, ci ho fatto una serata, organizzai, e, insomma, successe di tutto in quella serata. Magari, insomma, lui ne fa tanti di live, quindi manco si ricorda di me, probabilmente. Però fu una serata intensa. Sicuramente, sai no, chi gli dici il rossetto degli Abruzzi sa benissimo di cosa sto parlando, e di tutto quello che è accaduto in quelle del Lido d'Abruzzo a suo tempo. Fu una grandissima serata per me, tra l'altro, perché fu un pienone. Fu la prima volta che feci una serata e intascai due soldi. Cioè, due soldi reali, perché non ho la solita 50-100 euro, mettiamola così. E pagai un sacco di gente, fu, perché comunque c'era un grande staff. Fu un grande evento, un grande evento, con inocchi protagonista. E, insomma, un domani farò un podcast in cui racconterò i particolari, magari, di quella notte. O magari no, perché comunque non è che si può raccontare tutto, quindi magari no. Ci sono delle cose che è meglio non raccontare. Comunque, vi consiglio soprattutto la live con Claver Gold. Claver Gold è un grandissimo artista hip-hop, rap, proprio inizialmente, magari, più sul lato tecnico della parola rap, ma poi sempre più verso il conscious, verso l'introspezione, verso la poesia. E in due hanno raccontato, cioè, quelli che sono pezzi di storia reali della cultura hip-hop. Quella che è stata a Bologna, vissuta in maniera recente, perché abbiamo tante storie di quello che era negli anni 90, sangue misto e via dicendo. Però non abbiamo tutte queste testimonianze del periodo un po' più recente. Parlo tra i 2000, 2010 e poi avanti. E Claver Gold è uno che comunque era in quelle zone, lui essendo però marchigiano, e hanno fatto questo viaggio bellissimo, ne è valsa veramente la pena tre ore di live meritate. Insomma, una visione giusta. Ma Inoki non è più solo, cioè, nel senso, non è che non lo è più, non è solo uno speaker, appunto, non è solo uno che fa live su Twitch, ma è soprattutto un rapper storico. A suo tempo raggiunse, diciamo, la notorietà con brani come Notte e Giorno con Gio Cassano, Grande Giorno e Steam Peace, di cui ha parlato anche in queste live in maniera velata, dandoci degli indizi, degli sprazzi, diciamo. E adesso ha annunciato il nuovo disco. Cosa aspettarsi da questo nuovo disco? Leggo produzioni come quelle di Salmo Lebonski. E qui uno direbbe, ah, vi siete dissati, incoerente. Io credo che la coerenza sia una cosa sopravvalutata e stupida a un certo punto, perché comunque spesso si creano conflitti proprio perché magari c'è una stima di fondo e un attacco a pelle, no? E poi magari si può cambiare idea. Quindi io sono molto felice, in verità, di vedere questa collaborazione. Poi con Salmo alla produzione, occhio neanche alla rappata. Il featuring nella seconda traccia è con Tedua, un featuring secondo me furbo, giusto, perché comunque Tedua è uno che poi quando ci collabori ti fa fare un sacco di numeri su Spotify. Cioè al di là del numero di click, vi parlo proprio del numero di ascoltatori unici, che poi ti fanno salire a livello di ascoltatori. Quindi ottimo featuring da un punto di vista di marketing, però a parte quello sicuramente sarà interessante perché Tedua ha molto rispetto di personaggi come Inoki. Non è uno di quelli che siccome è più popolare, ha più click, snobba la vecchia scuola perché comunque erano altri tempi e tu comunque sei cresciuto con loro e devi portare rispetto. E Tedua è uno che sa portare rispetto, quindi bene così. Poi abbiamo altre produzioni, Stabber e poi alla quinta traccia featuring Noemi Official. Questo mi crepa, questo mi crepa. Cioè in occhi gli ha sempre dato gusto la canzone rap con il ritornello cantato da una cantante fatta bene. Una a disco gliel'ha mollato sempre. Però ho capito? Con Noemi. Di storie ce ne sono tante. E invece no, sono curiosissimo. Hype totale da parte mia per questo brano. Poi abbiamo altre produzioni, Rock Beats, Chris Nolan, poi Big Mama Almic, so chi sia, il featuring magari il classico giovane rap pirata che spinge lui. E anche il fatto che comunque il buon Fabiano firma Asian Fake, distribuzione Sony Music, lui che ha sempre attaccato le major e le roba varie. Non è che lui è contro la major, lui è contro il sistema della major. Quella che però ti cambia, quella che ti richiede. Qui si parlava proprio di questo episodio in cui Clavergold vinse Genova per voi, mi pare si chiama il concorso, e aveva vinto un contratto Universal, ma siccome gli avevano chiesto dei cambiamenti, si era capito che il mood era differente da un prodotto che lui e il suo staff aveva già creato e di cui erano convinti, staff indipendente, si parla di Glory Hall, con la quale ho avuto degli scazzi io personalmente, magari racconterò in un podcast i miei scazzi con Glory Hall, i miei scazzi con altri personaggi della scena hip hop, e praticamente, però comunque loro bisogna dargli il merito che hanno creduto in questo progetto, e il progetto Clavergold funziona proprio e soprattutto per questo, se lui si fosse venduto fregandosene male male, e lui appunto si sono alzati e se ne sono andati senza firmare, quindi con Inoki si parlava della major, e Inoki era tutto esaltato per questo discorso, lui che ai tempi si cercava la major, si sognava la major, poi arrivi in major e ti rendi conto che è una puttanata, e che sono dei figli di puttana fondamentalmente, questo è il concetto, però se tu hai una buona realtà di produzione, che ti rende libero, e poi la distribuzione si occupa una major, per me va bene, è un discorso giusto, sarebbe stupido non farlo, se il tuo prodotto comunque vende, gira, e qui tutta una questione di numeri, del resto il marketing, ad oggi ci possiamo permettere di essere prodotti di nicchia, ma avere una nicchia sostanziosa, Inoki ce l'ha, Inoki è un pezzo di storia, appunto, mo c'è stata anche la faida con Aban, risolta subito le sue mille faide, e via dicendo, fa parte di lui, ma Inoki è un pilastro, io adoro sentirlo parlare, adoro sentirlo rappare, perché comunque, nel bene e nel male, anche quando dice una puttanata, e ne ha dette tante, o quando magari fa una canzone, che è buttata lì, che non è, diciamo, degna del suo repertorio, o comunque magari che ti usa quel linguaggio tecnico, nella giungla di cemento, 6-7, cioè che cosa, che tu non capisci che sta dicendo, a meno che mi fa sentire male, cioè quel bricero di trash lui, ce l'ha, ce l'ha, è innegabile, che poi fa parte del mondo dell'intrattenimento, comunque lo aspettiamo, 15 gennaio, fuori col disco, e racconterà, probabilmente anche aspetti intimi di se stesso, parla di suo padre, nelle interviste di presentazione del disco, dice che tutti, no, magari gli dicevano, ah, tuo padre ha fatto amore tossico, è un culto, è provatelo a vivere da figlio, essere figlio di una persona, con problemi di droga pesanti, e insomma, quindi sicuramente ci sarà, ci sarà da riflettere, da divertirsi, e tutto quello che c'è dietro, un classico, no, grandi Enochines, lama Enochines, al microfono c'è un assassino,